Jackpot City, il tuo casino. Aperto a noto in strada Baccherini numero 5, dietro al municipio, un nuovo locale di 300 metri quadri con Videolotteris e Slot Machine di ultima generazione, dove puoi trascorrere il tuo tempo libero e tentare la fortuna. Un ampio spazio gioco per un'esperienza divertente e sicura. Un ambiente confortevole e riposante, con spazi riservati fumatori. Slot Machine e Videolotteri di ultima generazione, basate su un server di gioco centrale per evitare manomissioni e garantire un gioco sicuro e responsabile, unito al divertimento. Jackpot City è anche punto scommesse sia ipiche che sportive su tutti gli avvenimenti. Sfida le tue abilità e le tue astuzia per vincere gli elevati montepremi e i ricchi jackpot messi in paglio. Sei tu l'uomo jackpot, vieni da noi. Ti aspettiamo in strada Baccherini numero 5, dietro al municipio Noto. Tenta la fortuna e vinci con noi!